Il NAS di Reggio Calabria nel corso di mirati controlli alla filiera di produzione e commercio di prodotti caseari hanno sottoposto a ispezione un'azienda casearia operante nel comune di Melicucco riscontrando gravi anomalie nella tracciabilità del latte utilizzato per la produzione di formaggi e mozzarella. L'attività dei carabinieri che rientra in un'ampia operazione di verifiche proprio per garantire la sicurezza alimentare in prossimità delle festività pasquali ha avuto come obiettivo il controllo di ogni passaggio che un prodotto caseario compie all'origine fino all'arrivo sulle tavole del consumatore. È stato quindi accertato che l'azienda ispezionata utilizzava del latte sia vaccino che ovino la cui provenienza non era certificato ed era impossibile collegare la materia prima al formaggio prodotto. Inoltre non era stato mai aggiornato il registro di autocontrollo HCCP quindi non vi era alcun modo proprio per risalire gli ingredienti utilizzati durante la produzione. Al termine dell'ispezione sono stati sottoposti a sequestro amministrativo oltre 3,5 tonnellate di pecorino, provole e mozzarella perché erano privi di tracciabilità e quindi disposto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASPE di Reggio Calabria che verranno distrutti da un'azienda specializzata. A carico del responsabile legale del caseificio sono state elevate sanzioni per un importo complessivo di 3.500 euro nonché le spese per la distruzione degli alimenti sequestrati.